Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul canale. È passato un po' di tempo, tanto, non sono più abituata. Ho fatto... ci ho messo una vita a sistemare le luci, perché poi voi in camera mia adesso vedete così, no? Perché l'ho messa a posto, ma è un disastro totale. Torno su questi schermi, così random, credo, non lo so. Vediamo come va, perché non so niente della mia vita in questo momento, è tutto in pausa, odio questa cosa. Comunque, perché è uscita la nuova palette di Natasha Denona, la Golden? Allora, io questa non volevo prenderla subito per uscita, anche perché non girando più, non avendo intenzione di girare, ho detto vediamo come gli swatches della formula, se è la stessa della Gold, che io vi ricordo ho. Purtroppo, o per fortuna, non lo so, un giorno, prima che uscisse su Sephora, mi è arrivato un messaggio su Instagram da una di voi, Federica, ciao Federica, grazie, che mi ha detto, guarda Manu che sull'app di Sephora è già acquistabile, e passa anche lo sconto. Io non avevo ancora usufruito del mio sconto compleanno su Sephora, ho detto, va bene, se riesco ad applicare quello sconto alla palette, la prendo, se no aspetto. E ce l'ho fatta, infatti l'ho pagata 30 euro in meno rispetto al suo costo, e quindi l'ho presa. L'ho presa, ho iniziato a vedere dei video, i primi video che ho visto sono di Julia Adams, no Julia Adams, Angela Bright, Angela Bright che ha fatto un video di swatches. E lì ho detto, mamma, ho preso una ciofeca, perché gli swatches comparati a quelli della Gold non erano così esaltanti. Però ho detto, va bene, gli swatches, ok, sono leggermente diversi, vediamo come si comportano sugli occhi. ed è a tal proposito che ho da dire qualcosa. Comunque, questa palette, Golden Palette, uscita con la Golden Collection, che contiene oltre alla palette, anche un trio, una palette trio di illuminanti che non ho preso. Uno perché sono di colori, almeno due, sembrano essere un po' troppo scuri per me, ma soprattutto perché l'ho vista applicata. E sì, sono bellissimi i swatchati, quegli illuminanti, ma mi sembrano più degli ombretti. L'ho vista applicata sul viso e per me è un po' troppo come illuminante. Trovo che enfatizzi la texture, almeno vedendola dal video. Comunque, in pratica, non l'ho presa. Allora, questa palette, formato midi, ha sempre i buchetti dietro per togliere le cialde, volendo, cosa che non farò mai. Comunque, Made in Italy ha un pao di 24 mesi, contiene 18,9 grammi di prodotto. All'interno contiene 7 matte, di cui solamente due, se non sbaglio, sì, sono nella formula cream to powder, quindi la formula più cremosa. Sono Milko e quest'altro qua, Pana. Sono le due nuove shade presenti all'interno di questa palette. Poi contiene 5 metallici, tutti presenti già nella gold palette. Uno sparkling foil, che è questo qua, Nubia. Un white effect, che è Fisi. Un chroma crystal, presente anche lui già nella gold, che sono quegli ombretti ad effetto topper, scusate. Nove di queste cialde sono presenti all'interno della gold palette. Speravo fossero nella nuova formula sparkling foil, wet effect e quant'altro. E invece no. Dovrebbero avere la stessa formulazione di quelli presenti nella gold. Poi sono stati aggiunti 6 nuovi ombretti, nuovi, 4 nuovi, che sono due matte, appunto, Milko e Pana, poi Nubia e Fisi, mentre sono state aggiunte anche due shade, che sono Flash, questa qua, questo matte, pescato chiaro qua, che è presente nella star palette, quella grossa, che ormai, credo anche lei sia uscita fuori produzione, come purtroppo anche la gold. E anche questo bianco qua, che è un metallico, non è una nuova shade, ma è presente in una palette a dieci colori, molto, molto, vecchia, tra virgolette, però, ormai non si trova più neanche lei, era stata una delle primissime, primissime palette di Natasha Denona, che io, sinceramente, in Europa, non ho neanche mai vista commercializzata. detto ciò, io oggi, oltre a farvi vedere gli swatches che vi metterò, mentre io ciancio, di questa palette da sola, poi, volevo farvi dei confronti con altre palette monocromatiche di Natasha Denona, questa è assolutamente una palette monocromatica, cioè, non ve l'ho detto, però spero, e si intuisce, monocromatiche e più tendenti al nude, e poi faremo soprattutto un confronto con la gold, sia in termini di swatches, sia in termini di applicazione sull'occhio. Oggi facciamo un look con le aggiunte alla vecchia gold palette, proprio per vedere, per chi avesse già la gold, se queste sei cialde in più valgono la spesa, vi dico già, per me no, almeno, non a prezzo pieno, al prezzo che l'ho comprata io, ancora ancora, visto che ho comprato una palette di Natasha Denona, solamente perché c'era presente uno sparkling foil rosato, quindi, questo è tutto soggettivo, nulla indispensabile, io non lo ripeto spesso, però sappiate che è così. Mi sono avvicinata, come potete notare non ho fissato la base, perché se dovessi mai correggere qualcosa, almeno non ho il pacciugo del misto cipria, correttore, fondotinta, cioè, mi riesce molto più facile la cosa, anche se vi ripeto, io preferisco sempre, comunque, fargli occhi prima. altra cosa, le sopracciglia sono orribili, lo so, ma non le ho ancora fatte, vi avevo detto mesi fa, ormai che dovevo farle, non è ancora successo, l'unica cosa che faccio è potarle un po', ma evito di strapparmi, perché io sono in grado di far disastri con le pinzette, ne ho fatti in passato, quindi evitarei, comunque, come primer, ho utilizzato questo qua di Nars, lo Smud Proof Eyeshadow Base, se non mi ricordo male, inizio da questo colore, che è un cream to powder, uno di quelli nuovi appunto, ed è Milko, e lo vado a stendere sull'arcata sopraccigliare con un ref numero 27, che è un pennello da sfumatura molto fluffy, molto morbide, poi vado a prendere Flash, che è questo colore pesca chiaro, che è, al contrario di Milko, un semplice cream matto, cioè una polvere, e lo vado a mettere nella piega con un pennello da sfumatura che non avete ancora visto, questo fa parte di uno degli acquisti del periodo in cui non ci siamo visti, questo è un pennello di un set di Sonia G, di cui non mi ricordo il nome, comunque è il numero T4, poi vi metto il nome qua, sovraimpressione, sovraimpressione, che... vabbè, non importa. Comunque, questo è Flash, come vedete, molto molto chiaro, a Milko è descritto come un off-white, ho cercato una traduzione, non l'ho trovata, comunque, bianco sporco, ecco, facciamo, facciamo prima definirlo così, i Creamy Matte, cioè le polveri di Natasha, spolverano in cialda, eh, non fanno fallout, poi, soprattutto se si sbatte bene sempre il pennello, però in cialda, ricordatevi che spolverano, e Flash, invece, è descritto come un nude, chiaro, caldo, poi vado a prendere Pana, che invece è descritto come un beige, e lo vado a sfumare all'incontro tra appunto Milko e Flash, sempre con lo stesso pennello di prima che ho pulito precedentemente, la cosa bella di questi pennelli non è l'unica, ma una delle cose più belle di questi pennelli è che si puliscono in modo estremamente facile e veloce, poi vado a prendere Nubia, che è appunto lo sparkling foil, quella texture che io adoro, nelle ultime palette di Natasha Denona, e la vado ad applicare su praticamente tutta la palpebra, questo fa fallout, cioè, non ce n'è, messo col pennello, messo con il dito, evitate di ravanare nella cialda come spesso faccio io, perché così ne fa ancora di più, picchiettate, però, dopo di che, anche con tutte queste accortezze, il fallout, cioè, ecco, questo è il nuovo colore, che è, per me, un pescato chiaro, qua è descritto come uno champagne dorato, io ci vedo del pescato, sì, ha degli sparkling dorati, ma ha una base un po' pescatina, poi vado a prendere Fizzy, che invece è il what effect, che è quella formula comparsa per la prima volta nella I Need Nude, e lo applico sopra Nubia, ad essere sincera, Nubia mi piace più da solo, però, questo qua è un what effect, dovrebbe dare l'aspetto bagnato, allora, gli sparkling foiled, secondo me, come vi ho già detto più volte, non hanno bisogno di questa cosa, sono già abbastanza luminosi di loro per riuscire a farcela, soprattutto poi Nubia, no Fizzy, scusate, questo wet effect, è, secondo me, leggermente più scuro rispetto a Nubia, e quindi, cambia proprio il colore, così sembra più dorato, e un pochino più scuro. Questo wet effect mi ricorda molto quelli presenti nella I Need Nude, che come vi ho detto tante volte io non amo, cioè, nella I Need Nude mi piacciono gli sparkling foiled, non mi piacciono così tanto i wet effect, cosa che invece mi piace nella Xenon, quella tutta grigia, nera, bianca, ecco, li wet effect sono belli, sono luminosi, danno l'effetto bagnato, in queste due palette qua, io il wet effect lo vedo un po', quello sopra è Nubia, lo sparkling, questo sotto è Fizzy, il wet effect, allora, innanzitutto ha meno base colore, il wet effect, ma è anche meno luminoso, lo vedete? Questo qua è più chiaro, questo tende di più alla pesca, sto guardando anche il rossetto che mi sono messa, volevo tenermi sul neutro, invece no, vabbò, non ci fate troppo caso. Poi vado a prendere l'unico dei colori che usiamo oggi già presente nella gold classica che è questo marrone scuro Log, che nella gold è uno dei miei marroni scuri preferiti in assoluto perché è neutro, è neutro, marrone, non è violaceo, è un marrone ed è bellissimo, scriventissimo e lo applico sul rimacigliare sfumandolo piano piano con questo pennello che è uno smudge proof ed è il numero di uno, mamma mia, non ci vedo proprio più da vicino comunque. Lo porto anche nella rimacigliare inferiore sempre con lo stesso pennello, non aggiungo per il momento colore poi vediamo tiro un po' su cercando di fare qualcosa che assomigli a una letta ma non credo di riuscirci poi vado a sfumare un po' di pana nella rimacigliare inferiore con questo pennello di ref che è il 13 mini questi pennelli adesso sono venduti mi pare anche singolarmente sullo store di ref oh che bello che è venuta non mi era mai venuta così bene bello mi piace ultima cosa vado ad aggiungere un punto luce e metto lui che si chiama ora che è un metallico dorato avorio dorato descritto sul sito di Natasha denona come un avorio dorato lo vado a mettere appunto nell'angolo interno con il ref numero 28 ecco questo secondo me ha sostituito un colore nella gold che è spaziale lui è invece meno luminoso essendo appunto un metallico nella gold se non sbaglio la formula dei chroma crystal quindi è un topper bellissimo vado poi a sfumare sempre con lo stesso pennello un po' i bordi dell'angolo interno con milco il bianco matt aggiungo solo al centro della palpebra nubia che è appunto lo sparkling foiled perché lo preferisco come colore a fizzi allora ho finito tutto il look innanzitutto ho aggiunto il mascara questi due un mix sephora big by definition tutti i due campioncini che avevo ho detto vabbò usiamo loro non me ne piace nessuno allora questo qua è troppo bagnato sporca le ciglia sporca le ciglia sporca la palpebra in applicazione all'inizio era ancora più bagnato adesso un po' meno ha il pennellino in setole allunga se non da tutto questo volume stampa e se non le pettino bene se non tolgo bene i residui mi sgrana anche quindi proprio il massimo lui questo è il Nars Climax Extreme non mi piace neanche lui anche lui ha il pennellino in set il pennellino lo scovolino in set lui invece dà un po' più di volume rispetto a quello di Sephora però anche lui sporca la palpebra in applicazione e fa grumi anche lui stampa e sgrana se non lo pulisco bene poi ho aggiunto nella rima cigliare superiore interna la matita di Diego della palma questa nel numero 32 marrone scuro freddo e l'ho messa anche nella rima inferiore però solo all'esterno nella parte più interna invece ho messo questa qua che è una matita nude di House Labs che avete visto nell'ultimo video carina sì ma niente di spettacolare non so quanto si veda poi sono andata con questo pennellino di Refre questo che è il numero 3 piccolo a penna a mettere un po' di questo metallico qua che è Varis che si trova anche nella gold l'ho messo nella rima inferiore però nella parte più interna altra cosa che ho fatto non volevo fare perché ho detto poi faccio un pacciocco in video non è proprio il caso dove è finito ho messo l'eyeliner mio quello di questo qua che è ancora quello di Mercy che vi avevo fatto vedere questo forse ha quasi un anno funziona ancora va benissimo stranamente mi sono venute abbastanza simile ho aggiunto solo la codina io non lo metto mai su tutta la palpebra metto solo la parte finale tra l'altro l'ho messo con il mascara già applicato mi è venuta questa idea dopo oggi ho fatto un look appunto solo con i colori nuovi inseriti in questa palette nuovi rispetto alla gold ve li ho swatchati qua tutti qua questo i primi tre sono matt poi c'è il metallico quello biancastro glittera con i glitterini d'oro che però è un metallico e non è estremamente luminoso poi questo qua che nubia lo sparkling foiled e il wet effect fizzy allora secondo me a parte off white e questo qua che si chiama ora gli altri aggiungono a questa palette che non c'era nella gold una componente più calda più pescata motivo per cui io amavo così tanto la gold e ve l'ho detto anche nel video in cui le mettevo in classifica le palette di Natasha Denona che questa palette che si chiama gold in realtà è una palette neutra a parte questo oro qua è un po' alchemy che ha qualcosa di più ramato più bronzato però tutto il resto è neutro è vero ci sono degli scintillie dorati ma è neutro anche i matte qua sono abbastanza neutri addirittura python che è questo qua non presente nella golden che ha un sottotono più verdastro e addirittura freddo adesso vi swatcho i colori comuni ad entrambe le palette iniziamo con aria allora il primo vediamo se riesco a farlo mentre in diretta cioè in diretta tra virgolette questo è aria della golden mentre questo è aria della gold innanzitutto il rilascio colore è molto più intenso nella gold io ho sentito dire sono secchi quelli della nuova palette secondo me non è una questione di secchezza perché toccando la cialda non sono secchi il problema secondo me è che nella gold sono meno prestati gli ombretti sto ripassando quello della golden cioè lo swatch è più immediato e anche il rilascio colore sugli occhi è più immediato aria l'ho ripassato più volte questo della golden 3 ma è questo 2 per vedere se raggiungevo lo stesso tipo di colore secondo me sono due colori diversi questo sembra più un marroncino neutro questo ha una punta un po' più rosata all'interno non so se voi vedete la stessa cosa che vedo io questo invece è sandstone della gold della golden scusate anche lui come aria ha sempre lo stesso problema di prelevamento mentre questo è sandstone della gold solo una passata anche lui è meno prestato viene lo swatch viene meglio subito anche qua non li vedo del tutto uguali questo è più un beige caramello allora nella golden io la descrizione della gold non l'ho trovata online ma nella golden è definito un ocra medio infatti fa parte della metà della gold dedicata ai verdi questo invece è tick della golden della palette nuova questo swatch un po' meglio rispetto agli altri mentre questo è tick della gold ma niente a che vedere con quello con lo swatch della gold il colore qua mi sembra più simile anche se qua sembra più intenso perché appunto swatcha meglio l'ultimo log questo questo è colpa al cuore perché nella gold ve l'ho detto è uno dei miei marroni preferiti in assoluto allora questo è log della golden questo è log della gold colori abbastanza simili cioè decisamente simili però quello della golden va decisamente decisamente stratificato per raggiungere l'intensità di quello della gold poi veniamo ai metallici che sono presenti sia nella gold che nella golden allora questo è varis della golden questi due secondo me sono abbastanza paragonabili poi varis della gold devo dire che non ci vedo questa differenza né nel finish né nel colore sembrano abbastanza simili un metallico che invece secondo me è diverso almeno per colore è aurum questo è quello della golden è un oro muted un oro tranquillo ecco non giallo sparato come gli altri questo invece è aurum della gold secondo me sono leggermente diversi trovo aurum della golden un pochettino più freddo rispetto a quello presente nella gold però come finish più o meno ci siamo questo è alchemist della golden e questo qua è invece alchemist della gold qua sono leggermente diversi soprattutto non tanto nel colore anche se trovo quello della gold meno caldo meno pescato più bruciato però una differenza proprio lieve però trovo quello della golden scusate la confusione quello della gold della della paletta originale più luminoso rispetto a quello nuovo ha delle particelle luminose più evidenti cioè si vede proprio dalla cialda che hanno un finish un pochettino diverso allora alchemist appoggio un attimo l'altra è questo qua ok questo mentre nella gold è questo qua a lato io spero possiate vedere non lo so la differenza nella grana alchemist è più granuloso sembra più spesso come shimmer mentre nel quello della golden nuova ha una una cialda che sembra avere una grana più fine e questo secondo me influisce sulla luminosità questo è oro della golden la palette nuova questo è oro della gold allora due texture diverse la stessa cosa che ho visto per alchemist ma qua è ancora più evidente quello della golden ha un finish più sottile e anche molto meno luminoso impattante questo qua è proprio più bello uno degli ombretti più belli della gold secondo me è cava questo croma crystal questo è cava della golden e questo è cava della gold si vede anche dalla camera che cava della gold della palette originale più luminoso queste sono le differenze principali vi faccio vedere ancora lo swatch queste non sono colori già già presenti in una e poi mette anche nell'altra no sono due colori diversi la differenza tra ora che è quel bianco con glitter dorati della golden e questo che invece si chiama sparks che è l'altro croma crystal presente nella gold io non so quanto riusciate a vedere perché sono questo decisamente un topper trasparente con questi glitterini dorati che dà un bellissimo effetto bagnato sull'occhio peccato che non l'abbia messo cioè va bene togliere i verdi però questo al posto di ora rieccomi oggi volevo fare due look uguali ma diversi nel senso provare su un occhio la gold originale e sull'altro la golden la golden nuova così vi faccio vedere le differenze che ho notato negli swatches e speravo fossero solo negli swatches poi a voi larga sentenza però iniziamo vado a mettere innanzitutto il primo colore da transizione che è aria ed utilizzo come pennello questo del set di sonia g sempre dello stesso set che ho usato l'altra volta è un pennello molto particolare che so che non piace a tutti perché è molto grande molto denso come setole sembra un po' il pennello da bronzer di sonia g però mi piace molto per la piega per la piega o anche per l'arcata con ombretti più chiari comunque questo è aria della golden e adesso vado sempre con aria ma questa volta della gold sempre con lo stesso pennello che ho precedentemente pulito allora da swatch sembrava più marroncino questo della golden e questo più rosato continuo a vedere una punta in più di rosato in quello della gold classica naturalmente il pennello l'ho pulito ora vado ad intensificare con log che è il marrone più scuro della palette inizio sempre dalla golden occhio sinistro e lo vado appunto a mettere nell'angolo esterno con questo pennello di sonia g che è il numero non ci vedo t4 vado a rintensificare aggiungo un altro po' di log sempre con lo stesso pennello sempre sfumando nell'angolo esterno questo occhio qua sempre log però questa volta dalla gold classica vedete ho appena appoggiato il pennello e questa è una sola presa di colore sempre con lo stesso pennello che ho usato dall'altra parte è decisamente decisamente più intenso di questo qua qua mi sembra anche che abbia fatto non vorrei dire macchia perché è dovuto più alle mie pieghe che non al colore però qua il colore è decisamente più omogeneo rispetto a questa parte qua sfumo poi i bordi con il pennello pulito scaricato tutto il colore dalla parte della golden vado a riapplicare per la terza volta log per fare in modo che sia più o meno simile all'altro occhio adesso vado a prendere oro questo oro giallo giallo e lo applico con il dito al centro della palpebra il rilascio c'è immediato sì però adesso spero che possiate notare la differenza quando applico oro dall'altra parte oro quindi dalla gold vedete è più luminoso fin da subito questo sembra un classico metallico di natasha denona che io non amo questo qua invece è un metallico sì ma decisamente più luminoso dei suoi soliti adesso vado a prendere il metallico varis questo colore qua che a me piace tantissimo mi riferisco alla gold in realtà questo della golden è abbastanza simile e lo applico tra oro e log cercando di non fare fallout ma ho già sentito qualcosa cadere avevo già la base fatta come l'altra volta anche perché sono è quasi quasi l'una prima sono dovuta andare dal veterinario perché abbiamo il gatto stressato vorrei avere il suo stress non capisco come sia possibile però è così non ha più pelo sulle zampe perché se le lecca in continuo riprendo il pennello T6 quello con cui ho messo aria e sfumo metto varis dalla gold anche dall'altra parte tra log e oro e sfumo poi i bordi anche di quest'occhio con lo stesso pennello poi vado a prendere cava sempre con il dito e lo metto nella parte più interna dell'occhio questo è un chroma crystal formula già presente nelle palette più vecchie tra virgolette di Natasha Denona che appunto più brillante meno base colore a me nella gold forse è l'ombretto che ho usato di più in assoluto e cava come shimmer da questa parte metto appunto cava dalla gold guardate la differenza non so spero che possiate apprezzare allora penso che se una persona mi incontrasse per strada non si accorge minimamente della cosa però io che mi guardo allo specchio me ne accorgo come delle differenze guardate quanto è più luminoso ha una grana più grossa rispetto a cava della golden golden gold vado poi aggiungere log dalla golden nella rima inferiore con il pennello t1 e faccio la stessa cosa su quest'occhio con log dalla gold dalla golden prendo ora che è questo bianco metallico dorato e lo applico con il ref numero 28 appunto nell'angolo interno e visto che nella gold non c'è un equivalente di ora vado a prendere questo qua che si chiama sparks se non sbaglio è invece un croma crystal non è un metallico quindi questo fa decisamente fall out tra l'altro e ha una base chiara praticamente trasparente più che chiara e ha delle particelle dorate a me lui come come punto luce non piace perché ha delle particelle troppo grosse luminose non mi piace l'effetto però come topper è fantastico stupendo allora ho concluso il look ho aggiunto appunto mascara matita e quant'altro altra cosa che ho aggiunto un po' di milco sull'arcata sopraccigliare semplicemente perché ho trovato che così il mascara sbava molto molto meno questo è un trucchetto che sto adottando sempre ormai soprattutto con questi due mascara e con il caldo che sta iniziando o appunto un ombretto chiaro oppure una cipria comunque io spero che dalla camera si veda sono diversi quindi questo è mi piaceva l'idea di farvelo vedere direttamente sull'occhio a proposito devo fare un piccolo disclaimer su quello che avete visto prima l'altro giorno quando ho girato tra le luci che pensavo andassero bene invece poi in fase di montaggio mi sono accorta che non era proprio così non riesco a rifarvi tutto soprattutto la parte degli swatches del confronto tra la gold e la golden perché non ho tempo ho pensato giriamo così mettiamoci a girare non va bene per me io devo avere una scaletta perché se no poi faccio pastrocchi infatti questo video sarà tutto un spezzoni ecco non mi piace la cosa però era da tanto che non lo facevo non mi sono preparata le cose e quindi è andata così a proposito vi avevo in quella giornata dove vi ho fatto vedere l'altro look vi avevo già fatto il raffronto con le altre palette che è una cosa che faccio molto velocemente non vado nel dettaglio perché se no non ne esco più però ecco non mi è piaciuto come è venuto infatti quella parte la taglio ve la metto adesso ve le faccio vedere in pratica una di fianco all'altra ecco questo è il confronto con la nude la nude sui toni neutro freddi muted cioè desaturati i matt non c'entrano assolutamente niente questi marroncini un po' tendenti al caldo soprattutto nella golden questi decisamente tendenti al freddo volevo solo farvi gli swatches di due cioè del nuovo sparkling foiled che è nubia e muse della della I need a nude muse sopra nubia sotto colori completamente diversi nubia è più caldo più pescato però devo anche dire che muse è decisamente più luminoso ecco una cosa che ho notato è che questo sparkling foiled non è brutto no dura bene sulla palpebra il problema è che secondo me è molto meno impattante degli sparkling foiled che ha fatto uscire prima nella nude nude nella jacca nella xenon altra palette nude al confronto è la glam mannaggia questa la golden specchia un sacco ecco la glam decisamente più grigia anche un goccino più forse più intensa ma è anche più intensa rispetto all'i need nude di qua non vi swatcho niente forse ci sarebbe questo metallico qua confrontato a daorum della golden questo è quello della glam e sotto quello della golden abbastanza simili come colori la palette più simile ma più simile in pochi colori è la glam face nella versione light e mi riferisco soprattutto a nubia come confronto cioè lo sparkling foiled questo qua vi ho swatchato anche i matt qua perché a vederli così potevano sembrare simili allora questo qua è nubia dalla golden questo sotto il più chiaro della glam face e poi l'altro della glam face light questo di fianco sono diversi come colori nubia continua ad essere il più pescato il più caldo e invece questi sono i matt qua sopra ci sono quelli della golden e questi due sono i più chiari della glam face decisamente più rosati rispetto a quelli della golden questo di fianco pensavo fosse il più simile a quello più chiaro della glam face invece no questo è decisamente più pescato questo è più rosato altra paletta confronto la metropolis ma vi dico già che non ci siamo questi colori tenendoci nella parte più dorata lasciando stare gli arancioni questi sono proprio più arancioni più quasi ramati non c'è niente di uguale neanche i matt questi sono decisamente più appunto aranciati rispetto a quelli presenti nella golden qua ve ne ho swatchati solo due sono anche molto più intensi vedete questi sono decisamente più neutri e questi sono due shimmer della metropolis vedete questo decisamente più aranciato rispetto agli altri vedete era il più più simile più chiaro e poi ho swatchato anche un topper della metropolis che è questo qua mentre questo sotto è cava cava pensavo fosse più più freddo cava invece no cava della golden qua questo è quasi rosato della metropolis pensavo fosse il contrario ultimo confronto con la jacca palette vicine non c'entrano proprio niente questa del verde vi swatcho solo un colore che planteja questo qua sempre uno sparkling foiled che è questo qua molto più luminoso di questo che è nubia qua c'è anche del verde comunque e questo qua sotto è cava non c'entra proprio niente cava tenete conto però sempre con topper ultima cosa vi ho swatchato alcuni sparkling foil della jacca tranne questo più grigio per metterli a confronto con gli ombretti che non ci sono più nella golden ma che erano presenti nella gold cioè questi tre e questo è quanto i primi tre sono della jacca e questi sono quelli presenti nella gold forse per chi non avesse la gold e volesse qualcosa che gli assomigliasse ecco forse nella jacca si può ritrovare qualcosa i più simili sono questo e plantesia questo qua questo è più freddo rispetto al verde nella jacca e più blu veniamo ora alle conclusioni cercherò di essere il più breve possibile innanzitutto chi ha già la gold la golden secondo me fa bene a lasciarla dov'è e a tenersi ben stretta questa come formula sia di matte che di metallici secondo me è migliore i metallici di questa palette pur non essendo le nuove formule sparkling foil su di me non danno problemi di durata cosa che invece fanno quelli della golden mi riferisco solo alle formule metalliche quindi non ai chroma crystal non ai wet effect non agli sparkling solo ai metallici classici perché secondo me sono più sottili su di me durano 5-6 ore senza colla per glitter di più di quelli ad esempio della glam che su di me non durano niente però non durano quanto quelli della golden in più 6 shade diverse rispetto alla gold non le trovo così spettacolari da dire ne avete assolutamente bisogno tra l'altro questi 6 colori in più aggiungono alla gold classica una nota un po' più pescata e anche una nota più chiara che rende questa palette più nude rispetto alla gold classica che è una palette per me molto intensa però questa è più nude perché ha una parte decisamente più chiara i wet effect e lo sparkling fold ve l'ho detto in questa palette non mi fanno impazzire quindi anche qua non credo che valga la pena spendere soprattutto a prezzo pieno per avere questi 6 colori qua in più per chi non ha la gold questa palette potrebbe essere carina soprattutto se si ha un colore di carnagione più dorato più ambrato del mio questa potrebbe essere la palette nude perfetta assolutamente sì io non la trovo una palette calda a parte questo oro giallo e alchemy che dà un po' più sul ramato gli altri colori non sono così caldi assolutamente soprattutto nei matt la gold è addirittura una palette per quanto mi riguarda neutro fredda tolti sempre questi due colori qua questa parte qua è fredda questa parte qua è neutra i matt sono neutri non trovo che abbia una somiglianza soprattutto di colori con la bronze non ve l'ho fatta vedere la bronze perché io non ce l'ho ecco quella per me è una palette calda quella è una palette calda molto aranciata questa non si avvicina minimamente all'essere aranciata al massimo al pescato ma è un pescato chiaro per me molto molto portabile ve l'ho fatto vedere nel primo look chi non avesse la gold palette carina sì la migliore di Natasha Denona per me no mi ero dimenticata di dirvi perché sono stordita che c'era un altro pezzo di questa collezione della golden che è il gloss plumper plumping gloss qualcosa del genere con dei brillantini dorati io non l'ho preso perché ho capito che a me i prodotti plumping non mi piacciono non fanno per me neanche quelli mentolati io ne ho alcuni non vedo l'ora di finirli e poi non ne compro più per quanto mi piacciono e poi sull'effetto sulle labbra però veramente non riesco a sopportarlo mi dà proprio fastidio tra l'altro il gloss uscito in questa collezione non è neanche l'effetto mentolato l'effetto speziato credo dato dalla capsaicina quindi se siete sensibili a queste cose lasciate perdere io penso di avervi detto come la penso su questa palette spero di esservi stata utile anche se in ritardo volevo ringraziare tutti quelli che si sono interessati che mi hanno chiesto che fine avessi fatto se stessi bene che mi hanno fatto anche degli in bocca al lupo che per il momento non sono osserviti crepi il lupo io sono molto scramantica spero anche di tornare su questi schermi il più in fretta possibile non lo so perché non so niente di cosa sarà della mia vita quindi non posso fare altro che salutarvi e ringraziarvi ancora di esserci ciao alla prossima